Buon giovedì, ben ritrovati. Nel giorno consueto l'appuntamento è il numero 21 con velò la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Abbiamo chiuso con il Tour de France, ha vinto Pogacar ma non avevamo nessun dubbio già da qualche tempo e siamo a poche ore dalla prova olimpica. Sta per iniziare Tokyo 2020 nel 2021 ma ovviamente c'è attesa per capire soprattutto la prova su strada dei ragazzi di Davide Cassani e non solo perché poi ci sono le donne, c'è anche tutto il comparto pista da cui di solito arrivano delle medaglie. Tra le altre cose il nostro Elievo Viviani sarà portabandiera nella cerimonia inaugurale di Tokyo 2020. Ne parleremo questa sera ovviamente proiettandoci con i pronostici per quanto poi siano aleatori sulla prova di Tokyo. Lo faremo con i nostri ospiti, metà in studio, metà collegati. Ovviamente come di consueto parto con l'ideatore della trasmissione Luciano Robotini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Al tuo fianco, com'era il campione americano? Anno 2005. Anno 2005, campione americano del 2005. Ruggero Marzoli, ciao Ruggero. Buonasera a tutti. Ho trovato il modo un po' particolare di presentarti? L'ho trovato, dai. L'ho trovato, l'ho trovato. Andiamo in piattaforma, saluto, ritrovo con piacere Riccardo Magherini. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Un moderno Riccardo. Va bene come... Sì, stasera mi sono messo una... Ho fatto un outfit, come dicono ora, si usa dire... Ma non un moderno in quel senso. Moderno in quel senso. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Al tuo fianco, sempre in maniera però digitale, il direttore di Tutto Biciweb, Piero Augusto Stagi. Buonasera direttore, ben ritrovato. Buonasera ragazzi, ciao a tutti. Ok, questi sono gli ospiti, i temi ve li ho già detti. Vi ricordo le possibilità di seguirci, canale 14 o 514 in HD del digitale terrestre, ma anche se volete, se siete fuori da queste regioni, anche con la nostra diretta Facebook sulla piattaforma e sulle nostre pagine, quella di Velo e quella di TV6, potete seguirla in maniera... insomma, sono identiche e quindi potete seguirla da una parte o dall'altra. Magari se mettete like, quando siamo in diretta vi arriva anche la notifica, così come potete scriverci al 392-737060, Whatsapp o SMS, potete scegliere. Noi ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria, tra poco torniamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì. Troppi in. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Ecomob Expo. Fai un pieno di cultura ecosostenibile. Pronti a partire per questo ventunesimo appuntamento con la nostra trasmissione. La rubrica ITV6 dedicata al mondo delle due ruote. Da quattro giorni è terminato il Tour de France. Bello, intenso, un po' scontato probabilmente. Cioè è stato un vero e proprio unico dominatore. Dal primo praticamente quasi fino all'ultimo giorno. Si tratta di Taddei Bogaciar. Secondo successo consecutivo alla Gran Bucle. E per un ragazzo così giovane è tutt'altro che scontato. Ora, io visto che Luciano l'altra volta, anche se non era ancora ufficiale il successo di Bogaciar, a te, a Riccardo l'ho chiesto. Faccio la domanda un po' cattivella anche al direttore Piero Augusto Staggi che è con noi questa sera per chiedergli se... Direttore, Bogaciar corre il rischio un po' di rendere il Tour de France monotono? Beh, guarda, a me quando ci sono i grandi campioni piace in qualsiasi sport. Io credo che... Abbiamo vissuto tutti, no? Magari non con l'attenzione che dedichiamo al ciclismo, perché è la nostra passione, però le gesta di Valentino Rossi l'abbiamo seguito, non eravamo assolutamente annoiati. Ci divertivamo per le vittorie a ripetizione, forse del motociclista, uno dei più grandi, se non è il più grande di tutti i tempi. E così quando vediamo il periodo di Alberto Tomba, il periodo di Roger Federer tennis, la Federica Pellegrini che vince da anni e anni e la ammireremo tra pochi giorni, anche nella sua quinta Olimpiade, quando ci sono i grandi dello sport, noi dobbiamo solo essere contenti di averceli e di gustarceli. È anche vero che però la strada è stata facilitata, ma non per colpa di Tadej Pogaciar, che è un talento assoluto e ha strameritato quello che ha ottenuto. Però ha perso anche per strada perlomeno due corridori che avrebbero potuto rendergli la vita un pochino più difficile. Uno, Primoz Rogge, c'è l'altro, Geraint Thomas. Non tanto per Thomas, ma nell'economia di una squadra come la Ineos, che aveva due punte e con due punte in una squadra così forte e attrezzata, perché la Ineos ha confermato di essere competitiva, anche se forse gli è mancato un po' di creatività, di spregiudicatezza anche. E poi la mancanza di Rogge, è chiaro che Tadeo ha avuto vita facile, non ha rubato nulla, ha meritato tutto, ci ha comunque deliziato. Io mi sono divertito, io considero questo Tour de France un buon e un bel Tour de France. Certo, le due settimane sono state di gran lunga più divertenti della terza e ultima settimana. Un po' perché la terza settimana è sempre particolare, perché le energie vengono meno, e se non hai delle squadre attrezzate, delle squadre con delle belle punte, in realtà, ribadisco, la Ineos ha fatto tutto, quasi tutto, perché secondo me a livello strategico qualcosa è mancato, però hanno dovuto fare probabilmente i conti con quello che avevano. E quello che avevano era Carapaz, che non era gran cosa. Ha ottenuto il massimo, un terzo posto. E la Jumbo, anche lì, noi con questo ragazzo Vingegaard, se non si fosse fermato ad aspettare Roglic all'inizio del Tour, se non avesse perso secondi, e dico anche minuti, e ragazzi eravamo lì, eh! Il Tour avrebbe cambiato molto. Con questo non dico che gli hanno regalato il Tour, perché le corse sono così, però è stato un ottimo Tour de France, e io mi aspetto anche qualcosa di estremamente bello, anche le Olimpiadi di Tokyo. Io mi auguro, chiaro che tifo gli italiani, ma se deve vincere uno straniero, spero che vinca un grande corridore, Vautovanaert o Taddeo. Sarei felice. Sì. Direttore, hai nominato Carapaz. Secondo me, invece, è quello che effettivamente nell'ultimo periodo sta dimostrando che ha vinto il Giro d'Italia due anni fa, è arrivato secondo l'anno scorso, ha fatto terzo al Tour de France. Probabilmente questo è il corridore più in linea in questo momento del ciclismo mondiale, non ti sembra? No, ha raggiunto chiaramente un livello molto buono, perché parliamo di eccellenze, è uno che fa podi a ripetizione, che vince un Giro d'Italia, non è chiaramente un corridore capitato lì per caso. è chiaro che si trova un fenomeno assoluto che a 22 anni fa cose che neanche Eddie Maers ha saputo fare alla sua età. Poi bisognerà vedere se Taddeo è capace di continuare a ripetersi e soprattutto ad allargare la sua ingordigia pedalatoria, pertanto da arrivare o avvicinare il supremo e immensa cannibale. E poi questo ragazzo, Jonas Wiengegan, che è una sorpresa assoluta. E cara pazza si è trovato queste due eccellenze che gli hanno scompaginato le carte. Probabilmente se avesse corso il Giro d'Italia l'avrebbe vinto, detto come va detto, perché comunque è forte un po' in tutto, però non eccelle quanto quei due l'hanno. In questo momento quei due l'hanno qualcosa di più. In modo particolare, lo sappiamo, Taddeo che è fortissimo, perché non ha un punto debole. In questo momento non ha un punto debole. Se ha una volata di 5 o 6 corridori, la può vincere perché batte gente velocissima come Giuliana Lafilippe. Basta ricordare l'arrivo della Ligi Bastogne. Direttore, settimana scorsa, Luciano e Riccardo mi hanno smentito, però io ci riprovo con lei. Ha la sensazione che tutto sommato, insomma in casa a Giambon, oltre il rammarico di facciata di aver perso Roglic, poi si girano e dentro il pulma si sfregano le mani dicendo beh, sai che c'è? Abbiamo trovato probabilmente quello che ci farà fare a meno di Roglic. Guarda, io l'ho anche scritto, quindi dici una cosa che condivido. Nel senso che, secondo me, chi non è contento di questa situazione, uno è Roglic, che si trova un problema in più in casa e non di poco conto, e la Giambon invece si sprega le mani. È chiaramente a posto. Sì, forse a pensare col senno di poi, siamo tutti bravissimi, probabilmente avrebbero potuto, sapendolo prima, gestire il ragazzo diversamente. Però in questo momento io credo che il problema sia un problema più di Roglic, che adesso prima era indiscutibilmente il riferimento della squadra, più anche di Volta Van Aert, che si è messo al servizio e che comunque pensa alle classiche, che comunque pensa alle corse brevi a tappe. Adesso no. Adesso c'è questo ragazzo che ha dimostrato di avere le tre settimane, di avere una caratura internazionale. Questo fino a pochi mesi fa. No, noi l'abbiamo applaudito perché ha vinto la Coppa e Bartoli. Adesso ha fatto un salto esponenziale incredibile che mi ha totalmente sorpreso. Sapevo e avevo visto che era un buon corridore, ma se mi avessero detto guarda che sarà l'uomo che metterà un pochino in crisi Pogacar, l'avrei detto ma tu hai bevuto qualcosa che ti ha fatto male o hai bevuto qualcosa di pesante. E invece così è andato. Quindi cambiano le gerarchie all'interno di quella squadra. Chiaramente la Jumbo adesso dovrà essere brava a gestire due galli nello stesso pollaio. Riccardo, come si fa? Innanzitutto sono contento che il direttore mi ha dato ragione. Sorridi in maniera sardorica, ma... No, beh, ti ha dato ragione. Sembrava quasi che vi foste messi d'accordo perché tu giovedì hai fatto... E non ci siamo messi d'accordo. Giovedì hai fatto quel discorso e venerdì, se non sbaglio, il direttore aveva fatto proprio lo stesso ragionamento. Ma ci sta, per carità ci sta. Io non ho una grande fiducia su questi qua della Jumbo, come non ho fiducia nemmeno con questi qua della DSM, come non ho fiducia con molti ammiragli che sono in macchina. perché è vero quello che ha detto Piero Augusto, mi trova perfettamente d'accordo, poi con Piero Augusto ci si confronta spesso, anche durante il tour ci siamo confrontati molte volte, però secondo me qualcuno poteva fare qualcosa di meglio quando ci sono stati dei momenti che forse il piccolo Pikachu forse non era proprio perfettamente in quadro, ma non tanto lui, ma la squadra, che poi si è rivelata, secondo me, la rivelazione del tour, perché questa squadra che doveva essere una scenerentola si è ritrovata con la maglia gialla e hanno corso a parer mio molto bene in protezione di Tadei, poi Tadei quando va in salita ciao, arrivederci, non ha bisogno di nessuno, anche se devo dire Maika è stato molto bravo, formula un po' meno, mi aspettavo qualcosa un po' di più, però cosa vuoi dire? Io sono chiaramente d'accordo con Piero Augusto, cioè uno che vince la maglia può avere, ma poi la maglia bianca devono rivedere, sai che alla SNAI c'era una scommessa, Vincente il secondo dietro Fogaccia, cioè c'era questa scommessa. Il primo dei non maglia gialla. Sì, no, ma c'era veramente, perché me l'ha detto un mio amico, mi ha detto, secondo te Vingegaard può arrivare secondo? Ho detto, secondo me sì, no, perché c'è una giocata da fare, vincente dietro Fogaccia, o Fogaccia, scusate, perché bisogna essere corretti. Quindi, niente, a me questo tour mi è piaciuto molto, mi è piaciuto questo ragazzo che è un fenomeno, non ha punti deboli, va forte al cronometro, va forte in volata, va forte in salita. Io l'ho già detto, voi lo sapete, perché mi seguite anche in trasmissione, io ho detto, non voglio paragonarlo a Merckx, perché Merckx lascia lo Stato V, e poi non si possono fare paragoni, però può essere l'era di Pogaccia, come c'è stata l'era di Poppe Bartoli, l'era di Merckx, l'era di No, ecco, secondo me, questo incarna questi personaggi qua, in un ciclismo completamente diverso, un ciclismo diverso proprio, anche nel modo di interpretarlo, i corridori sono andati fortissimo, e poi guarda qua, ma c'è, guarda, Maurizio non me la levare questa foto, no, rimettimi quella foto di Maurizio, per favore, perché è uno spettacolo, cioè vedere questo ragazzo, con quel sorriso lì, con quella, guarda, 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 cioè io mi commuovo, è un bimbo, ma lo vedi anche da come è messo, cioè in bicicletta, Luciano, Ruggero, lo vedi, non c'ha, non c'ha i muscoli sfibrati, io oggi ho visto un pa' di fotografie di quelli che hanno finito il tour, ho visto una fotografia su Instagram dell'Irlanda, c'era Roche, Daniel Martin e Dunbar, cioè, oh, ma Daniel Martin c'ha, c'ha la carta, c'ha una carta geografica a mezzo alle gambe, c'ha tutte le vene fuori, questo non c'ha una vena fuori, è un bimbo, bisogna sostenerlo, che sia sloveno, chi se ne frega, questo è una meraviglia che ci ha dato fortunatamente insieme agli altri, perché, ragazzi, cioè, Van Aert ne vogliamo parlare, Van Der Poel, Evenepoel, tutti questi fenomeni, cioè, Alaphilippe, io vedo un ciclismo, sarò romantico, sarò, boh, fatemi come vi pare, cioè, io vedo un ciclismo bello, e questa immagine qui, quando Pogaccia si congratula con gli avversari, c'è, perché, ma avevi fatto anche questa domanda, se non sbaglio, Jacopo, che poteva essere odiato in gruppo, non può essere odiato questo ragazzo qua, perché... No, no, era una domanda che ti aveva fatto, non io, ma te l'aveva fatta, Luca Gregorio, il giorno di Lussardiden, perché effettivamente ti ha chiesto, c'è la possibilità che, insomma, ma questa voracità anche in alcune tappe, che con quel vantaggio avrebbe potuto lasciare, non fosse altro per un fatto di rapporti all'interno del gruppo, un ragazzo così, ecco, per l'appunto, sempre attento al successo anche di tappa, poteva creare qualche turbativa. Guarda, Jacopo, ti racconto... Però io sono d'accordo con la tua interpretazione. Ti racconto, vi racconto questo piccolo aneddoto, che racchiude anche questa cosa, lui l'ha spiegato benissimo, erano in due e anche in tre, e mi sembrava di essere in discoteca con Ben Johansson, che in qualità di Olimpiadi si può parlare, Johansson vinse le Olimpiadi a Montreal nel 76, noi, io andai un anno in Svezia con lui, e andammo in discoteca, io non ero fidanzato, ero libero, tranquillo, se andò in discoteca, non l'avevano riconosciuto, arrivò il padrone della discoteca, scusandosi, con due bottiglie di champagne, e dopo cinque minuti avevamo 17 ragazze intorno, io e lui. A un certo punto, la faccio breve, disse andiamo si va a casa, ecco come si va a casa, adesso che lui è bello? E lui mi disse, se ne prendi e le porti due a casa, scontenti le altre, quindi Pogaschia non poteva far vincere uno, e scontentare l'altro, quindi ha vinto lui, fine delle trasmissioni. Io dalla premessa dovevo rendervi conto, da quando ha detto non ero fidanzato, io da lì dovevo rendermi conto dove si sarebbe andato a parare. Oh Luciano vengo da te, poi vado da Ruggero, perché ha nominato Riccardo, è anche il direttore, ha nominato probabilmente il protagonista degli ultimi due giorni, assoluto, vittoria a cronometro, vittoria in volata, l'uomo che ad un certo punto ha dato la fiammata finale, ha entusiasmato il tour de France, il mio Wout van Aert, che sembrava un'anima perduta, ad un certo punto della stagione, invece, e invece, Invece ti piacerebbe che vincesse anche le Olimpiadi, ma sarà tu? Guarda, non è per riconoscenza di confronto il fatto che abbia appoggiato la mia tesi, però il direttore prima ha fatto due nomi, se non vince l'Italia ha detto i miei due preferiti, Pogaschia e Wout van Aert, quindi, però, chiaro che il tipo di partenza è per gli italiani. chiaramente, quando si vedono vittorie, come appunto l'ha fatto il tuo corridore van Aert, il mio corridore sembra mio. Bisogna cacciarci il cappello, perché effettivamente vedi vittorie di qualità, e secondo me, in questo Tour de France, vittorie di qualità, se ne sono viste veramente parecchie, specialmente nella prima settimana, con la vittoria di Van Der Poel, la vittoria di Alaphilippe, c'è stata veramente una prima settimana entusiasmante, e probabilmente, già nella prima settimana, Pogaschia ha voluto dare un grande segnale, vincendo quella tappa, che in pratica ha anche dato il senso al suo Tour, ha preso la maglia gialla, e non ha avuto assolutamente grosse difficoltà a portare a termine vincitore questa edizione del Tour de France. Una cosa è certa, che però, se la qualità di quest'atleta è quello che abbiamo visto, il prossimo futuro, nelle corse a tappe, un po' tutti scapperanno da dove sarà presente Pogaschia. Il prossimo anno al Tour de France, se va Pogaschia, che sicuramente ci tornerà, un Vingegaard, potrebbe cambiare direzione, potrebbe venire al giro, quindi potremmo avere anche un grande... Però ci sarà anche la corsa a batterlo, ci sarà anche il piacere, perché poi c'è anche il piacere di battere il nostro favorito. Il Pogaschia che abbiamo visto in questi ultimi dieci mesi, perché ha vinto due Tour de France in dieci mesi, giustamente il prossimo futuro, immaginare di poterlo battere nel prossimo futuro diventa molto complicato. Però, come ha detto Riccardo, come ha detto il direttore, in questo momento è una presenza importante per il nostro movimento, questo atleta, perché sta ridando quella vivacità di interesse. Io la mattina mi fermo al bar, tutti mi domandano del ciclismo, ciò che magari alcune stagioni fa non c'era questo interesse. Quindi, meglio che sia arrivato un fenomeno come lui, che abbia ridato quell'interesse a questo sport, che è uno sport popolare, e che dia anche di nuovo salute un po' a tutto il movimento, sia degli atleti, ma anche imprenditoriale, perché vicino alla figura di questi grandi personaggi sono affiancati anche delle grandi aziende, dei grandi sponsor, e più ne abbiamo, e più ne potrebbero arrivare anche nel prossimo futuro. Quindi, mi auguro che questa vittoria di Pocaccia sia un bel segnale per lo stato di salute del nostro sport. Io non so se anche del Ruggero hai questa sensazione che ha detto Luciano, perché poi in realtà, quando ci sono grandissimi corridori, c'è una generazione all'interno di uno spettro di anni, in cui ci sono tanti campioni di varie età, ovviamente, come stiamo vivendo in questo momento, c'è anche un'evoluzione del movimento generale. Faccio un esempio personale. Nel 94, Berzin, io avevo 11 anni, vince il Giro d'Italia, è chiaro che, anche se non è italiano, poi tutta l'epopea Fantani, però è chiaro che vuoi imitare, ricordo con la bicicletta, volevo imitare un po', i capelli non erano proprio lo stesso colore, però vuoi imitare il grande campione. Qui, se ce ne sono tanti, con ogni probabilità, anche l'effetto emulazione delle generazioni che verranno potrebbero trascinare. Sicuramente, come è anche accennato il direttore Pieragusto, cioè il grande campione porta avanti tutto il movimento, cioè ricordiamo Tomba, ricordiamo Tyson, Luna Rossa, si fermava il mondo, Pantani ancora tuttora regge il record del giro e del tour, quindi fa sicuramente bene al movimento. Anche in un'intervista di Saronni, il suo team manager, dice, questo ragazzo è fortissimo, ok, però lo dobbiamo preservare come atleta, perché fa bene a tutto il movimento. Oh, vi do una notizia, poi alla fine di imitare Berzin, non ce l'ho fatta, ma questo penso che l'avevate intuito. Ruggero, ti sei divertito questo Tour de France? Ti è piaciuto? Perché tra un po' passiamo anche alle prospettive in ottica Olimpiade. Ma tantissimo, c'era tanta qualità, tanto, 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 e i primi dieci giorni sono stati anche tra l'altro disegnati molto bene, a differenza degli anni passati, dove magari vedevamo un tour da subito ingessato, invece qui abbiamo visto le prime tappe come se fossero ogni giorno una gara di un giorno, quindi dalla Bretagne si è partiti subito con Alaphilippe, grande aspettativa per un francese in maglia ridata e tutta la nazione che lo guardava e lo spingeva con gli occhi non ha sbagliato, ha vinto. Poi, Van der Poel, il sogno, un romanzo raccontato e realizzato, perché Van der Poel aveva il nonno che purtroppo è morto, che ha fatto otto podi al Tour de France e non ha mai indossato la maglia gialla e lui è riuscito a indossare la maglia gialla ed è l'unico, credo, nella storia che aveva indossato la maglia gialla sia lui che il padre, quindi proprio un romanzo, ma anche nella qualità di quella vittoria, perché il giro prima era passato e aveva vinto, era passato per primo sull'arrivo e quindi aveva vinto il traguardo volante e preso otto secondi di abbuono. Il giro dopo ha vinto la tappa, quindi abbuono e maglia, l'ha portata per sei giorni e poi finché c'è stata la cronometro vinta da Pogacar e poi qualche tappa dopo, nel tappone ha preso definitivamente la maglia gialla e portata, credo, 14 giorni sulle spalle. E sulle belle quattro vittorie di Cavendish, un ritorno di questo grande campione che ha suscitato veramente grande simpatia verso un grande campione del ciclismo. Assolutamente sì, un ragazzo di 36 anni in una squadra che l'ha rinvigorito, l'ha ringiovanito, che è la De Koning, che anche io sentendo le interviste di Cattaneo, comunque è una squadra dove chi ci sta, sta molto bene. Un ragazzo che io ho visto passare professionista nel 2006-2007, feci un secondo, un terzo dietro di lui a una tappa del Bessage, un ragazzo che ha vinto con quest'anno 34 tappe al Tour de France, quindi eguagliando Eddie Merckx, anche se come dice Riccardo, non ricacciamo i vecchi nomi. Ecco, mentre parli c'è il tuo sossia. Conquistando per la seconda volta la maglia verde. E l'avevi detto! L'avevi detto prima del tour, è vero? Io sostengo di averlo detto, tu invece hai detto, hai fatto mille nomi, perché ho detto c'è De Mar, Caleb Iwans, Sagan, però occhio che torna Cavendish. Sì. Quindi, comunque bravi anche i compagni di squadra, perché da Cattaneo, Ballerini, allo stesso Alaphilippe, che poi non ha fatto, diciamo, dopo la vittoria, un grandissimo tour, però è stato sempre vicino a Cavendish, ha tirato tantissimo, e hanno portato a casa quelle quattro belle vittorie. assolutamente. Provinciamoci un po' in ottica Olimpiade. Vediamo la lista degli azzurri che faranno parte, cioè che andranno sulle due ruote, che andranno sulla bicicletta, un po' a tutti, chiedendo al direttore Piero Augusto Stagi come l'Italia su strada esce da questo Tour de France. Ci sono state vittorie di tappa, ma come esce l'Italia con i suoi interpreti? L'Italia esce solo con un corridore del Tour de France. Vincenzo Nibali è anche quella comunque una scelta e vediamo se è stata una scelta oculata, perché in realtà l'Italia ha deciso di lasciare al Tour per 15 giorni l'uomo più esperto, l'uomo delle quattro Olimpiadi, l'uomo che sarà probabilmente, come ha detto Davide Cassani, il Giorginio della nostra nazionale, quindi il regista e il rifinitore in attesa magari di un guiz, però questo bisogna vedere come butterà la giornata. E invece gli altri quattro si sono tutti preparati in altura, non hanno quasi corso, hanno fatto poi il Giro di Sardegno in una rifinitura, una cosa che va assolutamente in controtendenza con corridori tipo Tadej Pogacar, Wout van Aert, tanto per Citarne 2, che invece hanno corso tutto il tour, hanno fatto la loro passerella ai Campi Elesi e a lunedì mattina hanno preso di buon'ora il loro volo per raggiungere Tokyo. Quindi è proprio una filosofia totalmente diversa. E cosa ci dice il tour? Il tour ci dice che appunto Nibali ha raggiunto una buona condizione, il resto è un po' tutto da scoprire. è una nazionale di outsider, ce ne saranno tanti perché le squadre di riferimento in realtà sono altre, a cominciare dalla Slovenia chiaramente, che correrà con quattro corridori, ma ne ha due che valgono per sei come Primo Zarogic che probabilmente ha anche un po' il dente avvelenato, ha fame, ha voglia di riscattarsi, è stato molto sfortunato e quindi vuole prendersi con gli interessi ciò che gli è stato tolto sulle strade di Francia. Taddeo invece lui è bello sereno col suo faccino come giustamente Riccardo dice da bimbo come io e lui lo chiamiamo da sempre bimbo perché quello è talentuoso che non è mai sazio e poi bisogna vedere l'anserale belga che è estremamente competitiva e varia ed eventuale come i colombiani piuttosto che qualche francese gli olandesi perché è un boc molle ma comunque ci può finire dentro anche se non lo vedo chiaramente vincitore poi sarò smentito vediamo che io ribadisco se deve vincere la medaglia d'oro a me piace vedere i grandi spieghi con tutto il rispetto per Mollema e tutta una serie di declinazioni andando in giù spero nel guizzo italiano però è un grande punto di domanda io credo che la nazionale italiano sia un'inconita ecco la nazionale è poco rodata con un uomo di grande esperienza come Vincenzo e che punta sostanzialmente credo alla grande giornata di due corridori magari Alberto Bettiol che se becca in brocca la giornata ha tutto per poter far bene Gianni Moscon che lo certiamo e lo lo attendiamo da tantissimo loro due potrebbero essere tutti gli effetti dei nostri punti però è anche vero che qualche formazione straniera ha delle punte ben più accuminate Riccardo ti faccio tra poco vengo da te perché Luciano tu prima di andare in onda mi hai spiegato come vedi la fine del tour di fatto accoppiata quasi naturalmente all'inizio dell'Olimpia perché poi in realtà la prova su strada di Tokyo 2020 è quasi una naturale prosecuzione sono mi pare otto giorni insomma sono pochi giorni aiutami pure facevamo un ragionamento prima sia con Ruggero che con Jacopo normalmente la storia di questo sport noi che abbiamo avuto anche la fortuna di poterlo fare questa attività sportiva ci ha sempre detto che naturalmente dopo la fine di una grande corsia a tappe tu vedi l'anno scorso finiva il tour andavamo a San Sebastiano andavi a vedere l'ordine d'arrivo chi vedevi tutti quelli che erano reduci dal tour i primi 10 io secondo me un po' di dubbi sulla prova olimpica sui reduci del tour ce l'ho perché questo e aiutami a sostenere magari se ne sei convinto anche tu perché questi atleti hanno finito il tour domenica qualcuno è partito domenica sera qualcuno è partito lunedì mattina avranno avuto 10, 12, 13 ore di volo sono arrivate negli aeroporti hanno fatto 4 ore di fila prima di uscire saranno arrivati martedì mercoledì secondo me non hanno il tempo tecnico per metabolizzare tutta la fatica del tour quindi potrebbero avere una condizione climatica disastrata perché ci sarà 30 35 36 gradi ci potrebbe fare molto caldo molta umidità quindi io ritengo che in questa occasione i reduci del tour avranno grossa difficoltà ad esprimere diciamo la condizione che avevano negli ultimi giorni del tour perché effettivamente per tenere la condizione del tour tu normalmente l'attreta tornava a casa e cercava anche di fare una vita da tour cioè si svegliano la mattina alle 10 ti vai a fare quelle 3 4 5 ore di allenamento tranquillo hai la possibilità di recuperare le grosse fatiche del tour e quindi poi alla fine della settimana riesci ad essere veramente il brillante ma in questo caso con tutte tra viaggi spostamenti fusi orari caldo umidità io ho dei grossi dubbi sulla resa dei redici del tour alla prova olimpica tu cosa ne pensi Riccardo? No l'ho detto anch'io in trasmissione sono d'accordo con te proprio su questo aspetto loro hai detto bene non è tanto il viaggio in viaggio in aereo perché in viaggio in aereo dormono ormai gli aerei quelli che hanno fatto i viaggi non è che vanno in economy ormai vanno tutti in business o in first class quindi non hanno problemi sul viaggio il problema ce l'hanno nell'attesa all'aeroporto nei bagagli che arrivano nei quattro ore perché io ho contatti con i nostri inviati perché abbiamo una delegazione di Eurosport Italia alle Olimpiadi e mi dicono che è un casino è proprio totale c'è un sacco di controlli un sacco di cose che effettivamente ai corridori non fanno bene è giusto tutto quello che hai detto però ti faccio un altro esempio stasera ce l'ho con i racconti 1974 campionati del mondo a Montreal la nazionale italiana compreso anche i direttanti di cui io facevo parte quindi è un vissuto sulla mia pelle siamo andati una diecina di giorni prima per il jet lag insomma per il fuso orario Merz è arrivato il venerdì sera che tutti dicevano eh ma cavolo c'è c'è il fuso orario c'è le cose prova a dire chi ha vinto quel campionato del mondo lì lo ha vinto Eddie Merz e quell'edizione di quel campionato del mondo lo organizzò un imprenditore abruzzese abruzzese bravo e lo so Corneli Corneli che era pizza Corneli Spizza che era io sono stato a mangiare nelle sue pizzerie aveva praticamente una quarantina di eh di Volkswagen cioè di Maggiolini rosa che andava in giro per la città allora faceva faceva la pizza e la portava pensate nel 1974 senti se era avanti questo questo signore anche il mondiale in Giappone fece la stessa cosa arrivò il giorno prima però tu prima proprio io dietro io dietro le quinte quando Luciano mi fece questo discorso io gli dissi sì Luciano hai ragione però quello che ti dà una corsa a tappe e a me è successo il Giro d'Italia 2004 finisce il Giro d'Italia e poi vado a fare Lancaster vado a fare Philadelphia 260 km quel Giro d'Italia finì 23esimo in classifica generale e feci sesto settimo i tapponi e andai fortissimo al Philadelphia tant'è che vincemmo il campionato nazionale americano con Fred Rodriguez stessa cosa mi capitò dopo il Giro del Lombardia 2005 credo no 2006 che ero in Lampre faccio decimo il Giro di Lombardia quindi comunque andavo forte vado alla Japan Cup quindi parto subito il giorno dopo il Giro di Lombardia Japan Cup il giorno dopo ancora secondo al photo finish con Riccardo Ricco il problema quindi quindi se quello che voglio dire è Pogacar Van Aert tutti quelli che sono usciti bene al tour hanno sicuramente forte alle Olimpiadi tra l'altro quasi 5.000 metri di slivello tre salite importanti tu mi hai detto adesso ti faccio vedere il percorso prima mi hai detto dove si scioglie la gamba il problema dove può essere il problema sicuramente nei primi chilometri perché in partenza è normale perché i primi 40 chilometri sono di pianura poi c'è una salita una salita credo al 6% 15 km quindi se loro riescono a rimanere con il gruppo principale in cima a quella salita poi si sbloccheranno sicuramente la gara prenderà la strada che deve prendere è chiaro che un'Olimpiadi che partiranno 5 corridori per squadra magari una corsa tipica una corsa particolare però poi ci saranno anche determinate alleanze ci saranno squadre che comunque come la Slovenia partiranno con due punte ci saranno delle dinamiche che speriamo come dice anche il direttore Pierluigi Stagi di vedere all'arrivo come protagonista come vincitore comunque un nome importante poi vi chiedo il favorito però intanto devo andare in pubblicità ci fermiamo torniamo tra poco 25 anni di attività agonistica 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi rabottini cicli sport bici da corsa mountain bike gravel e tutta la linea e-bike rivenditore ufficiale Scott Bergamont e BH abbigliamento tecnico scarpe occhiali ciclocomputer cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata se vivi di passione se pedalare è ciò che ami allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo di Alematrino 31 resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram Spaut pulочку suore 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 per esempio suore e suore e edo come Grazie a tutti. 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 su Instagram. Grazie a tutti. 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 prova dove alla fine vincerà veramente un corridore forte. L'unica cosa che io voglio dire su un nome, sai, al Tour cerchi anche di capire chi probabilmente si è nascosto un po' durante questo Tour de France per puntare effettivamente a questa prova olimpica. Secondo me c'è un corridore, direttore, non so se sei d'accordo, che a questo Tour de France si è visto un po' poco, un grande campione che è Chiatoschi. Chiatoschi è quel classico corridore che negli anni Ottanta ne avevamo uno che si chiamava Kuiper, che non lo vedevi mai. Arrivava in Lombardia, ti vinceva in Lombardia, arrivava in Mondiale, ti ha vinto in Mondiale, arrivava alla Sanremo, ti vinceva in Mondiale e magari non lo vedevi durante la stagione. Chiatoschi al Tour de France è un corridore che va forte in salita, è un corridore veloce perché qui bisogna andare forte in salita, però bisogna essere veloci. Al Tour de France non si è visto per lui e soprattutto non si è visto molto nemmeno per la squadra, perché l'abbiamo visto veramente poco. Non vorrei che questo possa essere veramente il corridore sorpresa di questa prova olimpica, dove magari adesso i nomi più gettonati sono Van Aert, il Belgio sicuramente è una grande squadra, però io non scarterei anche la prova dei nostri italiani, perché la scelta di Vincenzo di tornare via prima dal Tour de France mi sembra una scelta molto ma molto intelligente. Secondo me sarà il miglior Nibali visto in questa stagione alla prova olimpica, non so fino a che punto può essere sufficiente per poi vincerla questa prova olimpica. Abbiamo un bel gruppo di ragazzi che secondo me possono aiutare l'impresa a questo grande corridore, corridori come Moscone che potrebbe coprire soprattutto la prima parte del percorso, poi entreranno in scena il Ciccone, dove secondo me nella parte centrale, nelle salite lunghe potrebbe… Io sono molto fiducioso sulla prova di questi ragazzi e poi speriamo che sia una prova dove ci possa portare una medaglia, perché come hai detto tu direttore, anche una medaglia di bronze, una prova come quella olimpica ha un valore veramente importante, riportare a casa medaglie dal nostro settore ciclismo in generale diventa molto molto importante. Io però voglio la risposta su Kwiatkowski direttore. Il nome che hai fatto è Kwiatkowski. Sì perché dobbiamo svelare una cosa, quando sei arrivato siamo messi a parlare chi vince, chi non vince e lui fa sempre così, mondiali, tutte le corse di un giorno fa, in diretta te lo dico, non me lo svela mai prima, in diretta, quindi io l'ho sentito adesso, anche io, quindi volevo un giudizio anche del direttore Piero Augusto Stagio. Kwiatkowski, devo solo dire, contraddico leggermente Luciano solo sul fatto che, e chiamo in causa… Che non abbia lavorato per la squadra. L'ultima settimana lui Kwiatkowski è stato fondamentale per l'Ina, se si è visto come e sta bene, quindi concordo su quello che dice Luciano, non concordo solo sul fatto che si è visto poco. No, lui è venuto fuori nell'ultima settimana con una gran gamba, una grande condizione, una grande intelligenza, era l'ultimo uomo, quando si spostava finiva il lavoro, lasciava spazio a Carapaz e Kwiatkowski chiaramente ha tutto per poter fare il colpo, perché ha la classe, ha il temperamento, ha tutto per poterlo fare. Credo che sia uscito anche lui in crescendo. Ne aggiungo un altro che è un vecchietto, che però nell'ultima settimana l'abbiamo visto, ha sfiorato anche una vittoria, ha fatto un secondo posto importante che è Alejandro Valverde. a 41 anni ha quelle caratteristiche giuste, però per poter essere là, perché in questo mondo, come ha detto giustamente Luciano, è un circuito estremamente facile da interpretare, perché se resti lì, poi te la giochi, devi restare lì, è un po' come i giochi delle sedie, no? a ogni giro ti tolgono una sedia, è così, non devi tanto… l'importante è avere la gamba e rimanere lì quei migliori, quando fanno un'accelerazione restare quei migliori. Però devi poi avere alla fine o la forza di staccare tutti o di giocartene in uno sprint. i Chiatoschi, gli Alejandro Valverde, così come i già ultracittati, Wouter Van Aertet, Dey Pogac, Primo Zerogic, sono tutti uomini che dispongono anche poi della volata, no? di quella… noi ad esempio come nazionale, Nibali, Ciccone e Caruso, allo sprint non li vedo bene. Bettiolo e Gianni Muscò, se restano lì, te la giochi fino in fondo. Oh, Riccardo, intanto io mentre parlavate scorrevo, innanzitutto se finalmente vince l'Olimpiadi bisognerà fargli un monumento, non alla carriera, proprio allo sport. Controllavo sulla lista… Perché è l'unico che ha fatto cinque Olimpiadi, eh? Sì, ma sarebbe veramente un'impresa incredibile. Guardavo quelli che partono da soli e danno sempre un fascino particolare, quelli che partono solo loro per la propria nazionale. Riccardo, e invece secondo te, allora chiedo a te come… Te la giro la domanda e te la cambio. Cosa ti aspetti che Cassani faccia? Cassani ha già fatto tutto perché ha portato secondo me i migliori. Come la interpreta, dai? L'unica cosa che secondo me… Il percorso così è un percorso duro, ci vogliono uomini di fondo. L'unico sbaglio che ha fatto Cassani secondo me è quello di portare Ganna a fare la cronometro. Te dici che è una bestemmia? Sì, è una bestemmia perché… Non è una bestemmia per me, perché Ganna su quel percorso lì non lo so quanto possa fare. Era meglio se Ganna faceva… Si concentrava sul quartetto che magari vinciamo la medaglia d'oro, anche con il record del mondo. Già che c'era Caruso, si poteva visto che c'erano due posti, facevi fare a Caruso e Bettiol la cronometro. Però non voglio sviare, l'unica cosa è quella lì. Poi per il resto ha fatto tutto bene. Per vincere le Olimpiadi, come ha detto giustamente Luciano… Io stasera vado quasi sempre a favore di lui, ma di solito non sono d'accordo. Però è così, perché anche in squadra non eravamo mai d'accordo. Lui diceva una cosa, io dicevo un'altra. Però, al di là di questo, io credo che ci vogliano le gambe soprattutto, ma ci vuole anche del coraggio. Perché bisogna anche interpretare questa prova e ci sarà poi tutto l'aspetto. Il caldo, l'umidità… Sarà una gara durissima. E quindi per questo motivo io credo che noi sarà difficile poterla portare a casa. Anche se confido molto nei corridori che ha detto anche Pier Augusto. Moscone e Bettiol secondo me potrebbero essere i due che possono… Poi c'è da considerare i vecchietti, perché lui ha detto Valverde. Però se ci metti Valverde ci può stare anche il buon Vincenzo. Non tanto per vincere, però Vincenzo se trova la giornata giusta che c'ha il gambone, gli fa diventare tutti matti questi qua. Quindi sarà sicuramente una bella corsa, questo sicuro. Gli artisti ci sono, il circo c'è… Speriamo che… E se Nibali fa il Giorginio, il nostro Giulio che fa, Ruggero? Giulio deve fare l'attaccante. Speriamo meglio dei tre che avevamo, quelli che avevamo all'Europeo. Giulio fa Chiesa. Chiesa, esatto. Il percorso è duro, quindi Giulio sulle salite è molto forte. Chissà, potrebbe anche rimanere lì davanti coi primi. che poi, come abbiamo detto, non è veloce e quindi… Sì, però l'arrivo non è impianeggiante, capito? Cioè c'è anche questo il discorso. Questo è un… Cioè un campionato, un campionato, è un percorso che veramente vuol vedere l'uomo in faccia. Non è un percorso così e quindi… Quindi sarà bello. Assolutamente. Peraltro anche il clima con ogni probabilità, Ruggero, che insomma in Giappone è anche corso. Il clima è umido. Il clima è umido. Cosa cambia? No, quando è umido fai fatica a respirare. Vabbè, quello che ricordo io era questa… questa cappa grigia e questa… vedevo… il sole non l'ho mai visto in Giappone. Fa un caldo terribile, però era… era proprio umido e fai fatica a respirare. Ti ripeto, poi quando il motore si scalda, quando va al suo livello e ai suoi giri, a quel punto lì esce il corridore, c'è il corridore di fondo e quindi sicuramente i campioni vengono fuori. Il percorso è duro, 5.000 metri. Il problema è tenere la gara perché pochi corridori per squadra. non è sicuramente come il mondiale, non è sicuramente come una gara, una tappa di un grande giro dove c'è una squadra che gestisce e che tiene. quindi anche il singolo, vedi come ha detto Riccardo, vuole vedere l'uomo in faccia. Hanno fatto prima un nome, Mollema, per dire ok, è troppo duro per Mollema una salita. Però è uno di quelli che prende 100 metri, prende 200 metri, si mette lì e col suo passo e poi se dietro non hai la squadra, vallo a prendere. Stessa cosa per un Chiatoschi che già nelle competizioni ad alto livello e mondiali si è fatto vedere. Intanto Maurizio ci ha trovato le previsioni del tempo di Tokyo. Maurizio, vabbè, la temperatura è relativa. Peraltro, Maurizio, ci arriviamo questa sera perché per due settimane se ne va ridentemente in ferie. Va in vacanza. Sì, va in vacanza Riccardo. Se ne va. Altra volta. Noi siamo così, noi qui siamo magnanimi. Cioè diamo, insomma, vacanze a Iosa. Quindi questa sera diamo in bocca al lupo perché affianca Karim Finotti che è alla prima di velo. Ma va a vedere le Olimpiadi, Maurizio. Ah, Maurizio, va a vedere le Olimpiadi. Si fa 12 ore di volo, in prima classe, in letto. No, a letto. Va bene, va bene. Oh, Luciano, per chiudere, insomma, che Olimpiadi ti aspetti? Ce la facciamo a riportarmi una medaglia. Me lo auguro, me lo auguro... Beh, diciamo che ci sarà... Riccardo ha già preparato tutti gli aforismi in latino che gli ho visto decantare il giorno della cronometro. Ah, eh, perché... non so perché ha questa cosa, poi ce lo spiega, con il liceo classico, però... che ho fatto anch'io, poi me la spiega anche di persona, però... Ci sarà anche da ricordare che ci sarà anche la prova femminile nella giornata di domenica, dove c'è un percorso meno esagerato dalla prova maschile, quindi la Longoborghini potrebbe regalarci anche in questo caso una bella sorpresa. e nella prova femminile c'è la Marta Bastianelli, noi abruzzesi seguiremo anche molto attentamente appunto la prova di Marta, perché giustamente dal ciclismo femminile a volte sono arrivate le belle sorprese di questo sport, quindi sia nella giornata di sabato che quella di domenica speriamo che si possa vivere una bella giornata di ciclismo. Però anche il percorso delle donne è molto duro, 2600 metri di slivello, eh? Eh, Riccardo hai preparato gli aforismi? Quod... Quod... non esti in atti, non esti in mondo, questo dovresti saperlo, perché... Sì, sì... Ora, seriamente, perché... Perché stiamo per andare in pubblicità, tra un po' vi salutiamo. Vabbè, no, ma le Olimpiadi le vedete su Discovery Plus, oppure chi è abbonato a Eurosport Player, già prima, non vale se si abbona ora, perché... E su Dazon, purtroppo, eh, chi ha l'abbonamento con Sky, Eurosport, purtroppo le Olimpiadi non c'è stato, non si è trovato un accordo e praticamente, eh, purtroppo chi ha solo Sky non può vederle. Chi vuole vedere le Olimpiadi con... con... con 29 euro, eh, più o meno fa un abbonamento annuale su Discovery Plus, che è la piattaforma di Discovery dove vedi tutto, vedi 30 canali e quindi, vabbè, dovevo dirlo perché... No, è fatto bene, è fatto bene a dirlo perché poi probabilmente qualcuno mette Eurosport e non trova. Eh, peraltro, anche qui, latino per latino e vi hanno anche corretto, ti hanno... vi hanno anche corretto e plus. Poi... No, però... In maniera... cioè, sì, poi... No, c'è stato... È stato preso, ovviamente, nella... nella pronuncia anglosassone e plus. No, 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 è una questione siccome commerciale e quindi... Non c'entra il discorso latino o aforismi eh di altre lingue. Lì è una... io se voglio chiamare eh... Tutto Bici Web, lo posso anche chiamare Tutto Bici Web, anche se poi dopo si scrive Web. Però è una questione eh di decisioni del... del direttore, per esempio. Direttore, non non so se ho detto bene o se ho detto male, però ti vedo un po' per prezzo. Cioè, quando gli hai storpiato il nome del sito si è un po' adombrato, giustamente direi. Un pochino. Eh, direi. Tutto Bici Web. Riccardo può dire quello che vuole. No, però non può fare così, direttore. Cioè, deve anche un po' contrastarlo, altrimenti lui poi... diventa totalmente parola di tutto, anche... anche... insomma, degli aforismi latini. Io lo seguivo e vedevo questa cosa, questa critica contro chi ha fatto il liceo classico e gli stavo così per scrivere. ho detto, ma che cosa hai contro chi ha fatto il liceo classico? Assolutamente. Va bene. Via. Io vi ringrazio, vi auguro una buona Olimpiade. Direttore, grazie per essere stato con noi, buona Olimpiade e grazie Riccardo, visto che farà il drittone. Beato te. Spero di farcela. Spero di farcela. Va bene. Curati un po', curati. Va bene. Eh, stasera sto sudando come è te Luciano, guarda. Eh, però grazie, grazie di liberarci così perché comunque il programma va, continuerà ad andare avanti, credo. Eh, certo. Eh, certo. Indovina grazie a chi? Eh, grazie a me. Eh, certo. Ti ho fatto allungare fino a un quarto alle 11. Sei intervenuto niente meno che a distanza anche nella durata di questo programma. Grazie, direttore, grazie Riccardo per essere stati con noi, buona Olimpiade. Ovviamente speriamo che tutti ci regalino una soddisfazione. D'oro sarebbe meglio, d'argento e di bronzo ci potremmo accontentare, però, insomma, non sarebbe la stessa cosa. Ruggero, grazie anche a te. Grazie a voi. Eh, tra poco parleremo della corsa del Dottor Carlo, andremo a Cepagatti, però prima ci vediamo la bici in 200 secondi, la rubrica del nostro Moreno di Labbio, che ci parla delle derapate. Cosa che, vero? Io e te, insomma, tutti i giorni. Eh, vero? Eh, come no. Ma, grazie Ruggero, ci vediamo presto, buona Olimpiade anche a te. Grazie, grazie a voi. La bici in 200 secondi, Moreno di Labbio, poi pubblicità e poi l'ultima parte di Velo. Cari amici di Verò, in questa puntata vediamo la tecnica della derapata, che consiste in una sterzata, molto stretta e molto rapida, cercando di non perdere troppo velocità. Può essere utile in certi tracciati, in certi tipi di curve. Innanzitutto, per innescare la derapata, occorre effettuare una frenata molto brusca con il freno posteriore. Quindi, in prossimità dell'ingresso della curva, si blocca con il freno posteriore. Ma prima ancora, bisogna alleggerire molto la ruota posteriore, caricando molto sul avantreno. In questo modo, riusciamo a favorire lo scivolamento della ruota posteriore, che andrà a compiere un vero e proprio cerchio, in questo modo. Se io devo girare attorno a quest'altra, da qui, ma mi viso la frenata qua, arriverò a questo punto e non ho più velocità. E quindi, non è servito a lamentare, è servito a lamentare. Se invece, a fianco allo stacolo da girare, e ti giudo e faccio l'erapare, mi troverò in direzione dell'uscita. Ok? Ciò che aiuta molto è la testa, lo sguardo. Se io guardo a terra, a terra va. Se io guardo verso l'uscita, quindi approccio l'ingresso della curva, sto qui, inizio. Quando sono all'ingresso della curva, blocco e questo comincio a girare. E lo sguardo è rivolto verso l'ingresso. Tenendo il peso sulle spalle, quindi scatto sul manubrio, mi posso aiutare tenendo la gamba che punta verso il centro della curva. Come se fosse un compasso. Ok? Come se volessi puntare al centro della curva e faccio girare il carro posteriore. In questo modo, riesco a favorire l'intraversamento. C'è da dire che la derapata è un esercizio che si può fare solo quando il fondo è sabbioso. E va assolutamente evitato quando il fondo è erboso, in montagna. Altrimenti andremo a rovinare la superficie del terreno. Dobbiamo esercitarci molto su questo tipo di esercizio, prima di avere completamente il controllo. Per questo il consiglio è di partire su una superficie piatta, prima che provare su jail. E' importante avere dei margini di sicurezza. Un trucco che favorisce l'inserimento in curva è tenere il piede interno puntato verso il centro della curva. In questo modo, anche se si perde per un eccessivo scivolamento in controllo della bici, siamo in grado di non cadere, di tenerci in appoggio con la gamba interna alla curva. Subito dopo, la derapata, si lascia il freno e si dà una decisa azione di rilancio per riprendere la velocità persa in curva. In questo modo riusciamo a girare in quei tornanti stretti dove spesso è impossibile girare senza questa tecnica. In questo modo riusciamo a girare in curva. 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi rabottini cicli sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclo computer, cardio-frequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Resta aggiornato su tutte le novità. 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 Resta aggiornato sul incontro. Resta aggiornato su tutte le novità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Grazie a tutti. Ultima parte di Velo per questa sera, diamo la buona serata, ben ritrovato stavolta in presenza Fabio Cascini. Ciao Fabio. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, prima di entrare in onda, poi hai seguito il dibattito sulle Olimpiadi, non so che cosa ne pensi, che cosa secondo te potrebbe dire o fare l'Italia anche per te? Insomma, siamo una mina vagante in questa settimana. Speriamo che fanno come i calciatori. Eh, sai che è venuto in mente anche a me. A sorpresa. Se dobbiamo vedere i pronostici, Pogaciar dovrebbe stravincere, però i pronostici... Sono fatti per essere smentiti. Graino Varenic. Ecco, queste vediamo alcune immagini. Pioveva tanto, veramente, veramente tanto sul circuito di Cepagatti. Eh, prima di entrare nel merito della corsa, innanzitutto, volevo chiederti, al di là, eh, cioè quanto è stato, insomma, complicato anche la realizzazione di, di una corsa con un tempo davvero, davvero incredibile. Sì, ma veramente, fino al giorno prima, avevamo anche fatto una riunione perché c'era la possibilità di spostare la corsa, perché avevamo visto le previsioni che erano catastrofiche, però abbiamo deciso con tutto lo staff di andare avanti e sapevamo quello che trovevamo, insomma, però indubbiamente la pioggia è stata torrenziale da inizio alla fine e ci ha tolto il pubblico, questo sì. Però, la manifestazione è stata molto bella, è riuscita, è stata una corsa tecnicamente molto combattuta, tant'è che è uscita fuori la media più alta di sempre. 41,6. È stata la corsa più bella di tutte e cinque le edizioni e per questo voglio ringraziare tutti i corridori, tutti i ragazzi, perché io negli ultimi tre giri, quando ho visto il diluvio, ho detto qua finiscono la corsa 10 corridori, invece l'hanno finito in 50 e voglio fare i complimenti a questi ragazzi che spesso, diciamo, critichiamo, invece hanno dimostrato impegno e veramente serietà. Per quanto riguarda la manifestazione, noi siamo comunque contenti dello staff perché quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo ricordato Carlo alla solita maniera, con una bella manifestazione al cimitero, anche se pure la pioveva e diluviava, e con una corsa spettacolare, una bellissima premiazione, e un pubblico che alla fine comunque è stato discreto, anche nel finale, e poi un pubblico numerosissimo su Facebook, perché quest'anno per la prima volta abbiamo fatto la diretta Facebook, io non pensavo di avere tutti questi contatti. Ma qui sono prese queste immagini proprio dalla vostra diretta Facebook. E veramente abbiamo avuto una marea di contatti che non mi aspettavo. E sono contento soprattutto per gli sponsor che ci danno sempre una mano. Non si tirano mai indietro per qualsiasi cosa chiediamo. Abbiamo quei 4-5 sponsor grandi, dalla famiglia Fonsi, da Davide Gersomini della Nuova Clima, Vincenzo Di Gianberardino della MB, Andrea Di Zio, e tutti gli altri, dal dottor Cola e tutti, che veramente ci danno una mano e ci sprono ad andare avanti. E poi la famiglia, la famiglia Sanduccione, con la signora Eleana, con Davide, Simone, Sara, che veramente voglio anche ringraziare perché non ci fanno mai mancare il loro supporto. E l'amministrazione comunale perché comunque anche grazie al loro apporto riusciamo a fare come sempre una bella manifestazione. Comandevo dei vigili, dei carabinieri e tutti. Senti Fabio, io volevo chiederti te, giustamente hai elogiato l'impegno di questi ragazzi, sono partiti in 94, sono arrivati in 50 e non era affatto scontato perché io poi ho visto anche... Guarda che pioggia. Sì, sono le foto molto belle che avete ricondiviso, sono le foto di Bruno Di Fabio che saluto e che ringraziamo indirettamente. Che ringrazio tantissimo perché veramente ha fatto delle foto stupende in condizioni proibitive. Bruno veramente non si tira mai indietro. Assolutamente ed ecco perché lo ringrazio e le abbiamo prese, le abbiamo selezionate queste che lui ha pubblicato perché sono veramente belle e ci restituiscono un po' anche il senso della corsa di sabato scorso. Ti chiedo invece che tipo di caratura degli atleti hai visto, oltre all'impegno, però il livello generale di questi ragazzi, di questa categoria? Guarda, il livello tecnico secondo me è buono. In questa gara è stato un livello molto buono. Avevamo più iscritti e avevamo in concorrenza una gara a Parma che ci ha tolto un po' di iscritti. Però avevamo comunque... Perché nel centro Italia secondo me abbiamo dei bei atleti. Poi c'è questo ragazzo che ha vinto, Varenic, che si dice abbia già un contratto da professionista. E comunque veramente ha un motore eccezionale. Però abbiamo visto anche i nostri ragazzi della Cepagatti con Ceroli che ha fatto una gara meravigliosa. e meritava forse anche qualcosina in più, sia lui che lo consolo. Veramente ha fatto una gara e lo voglio elogiare perché aveva una pressione addosso notevole perché correndo in casa... E sai, non riusciamo... In cinque edizioni avevamo ottenuto solo un podio fino adesso. Nella prima con Acampo, ora se non erro. E lui, anche lui e Ettore e lo consolo ci tenivano tantissimo a vincere questa gara. Però va bene l'impegno perché veramente sono ragazzi bravissimi. Poi ripeto, per loro è come se la pioggia non esistesse. Sono andato a battaglia dal primo all'ultimo chilometro. Bravissimi ragazzi. Ecco, siccome ne abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, ma è un argomento abbastanza ricorrente. Tu hai detto Varenic o Varenic, io adesso non so l'accento e mi perdonerà il corridore ucraino. Hai detto, pare che abbia già un contratto con una squadra professionistica. Non è, perlomeno a mia memoria, poi magari mi sbaglio. Negli ultimi tempi, soprattutto in ragazzi molto giovani che già evidentemente, a cui già si riconosce la caratura di essere in grado di sostenere una categoria professionistica, una squadra professionistica. Ecco, è una novità degli ultimi anni? L'hai vinta anche te? Oppure è una sensazione solo ed esclusivamente mia? Beh, io vedo nella nostra squadra anche, nella Vini Fantini a Cepagatti, c'è molto sicuro anche il dettaglio. Questi ragazzi, io ricordo rispetto a quando correvamo noi, insomma, questi sono ragazzi che curano il dettaglio, come loro tutti nella categoria. Secondo me è anche giusto, perché si preparano alle categorie superiori, ci arrivano già con una certa mentalità e sicuramente arrivano avvantaggiati, più preparati. Questo, indubbiamente, la preparazione, l'alimentazione, i materiali sono migliorati rispetto a qualche anno fa e giustamente si vede. E' quasi come, Luciano, se ci fosse una maggiore propensione, la professionalizzazione già da giovani, da molto giovani. Sì, in effetti nel nostro sport, negli ultimi anni, specialmente negli ultimi due, tre anni, vedi il Pocacar... Sì, è il caso più eclatante. Eclatante, o Bernal, questi sono riusciti a vincere a 21 anni, 22 anni Tour de France. Perché questo? Perché, giustamente, anche le squadre professionistiche... Ai miei tempi, la squadra professionistica veniva a controllare le manifestazioni dilettantistiche, per capire se c'erano dei talenti e poi farli passare al professionista. Adesso le squadre hanno anticipato i tempi, vanno nelle gare dei juniors a capire se effettivamente il talento c'è. Perché poi, in questa categoria, riesci anche a vederlo meglio, il talento, la differenza tecnica di spessore tra un corridore e un altro. Poi, vedi il talento, lo fai crescere e lo fai subito passare. E magari, in quel momento, se veramente ha talento, riesci anche nel mondo professionista a esprimersi molto meglio. Invece, ai nostri tempi, eravamo dilettanti, fino a 21, 22, 23 anni, avevi la possibilità di passare, passavi, però c'era un percorso nettamente diverso. Ecco perché questo ragazzo che vince a Cepagatti, magari già c'è il contratto per il passaggio al professionista e magari questo non farà nemmeno il dilettantismo. Quindi farà subito il salto di categoria. Comunque, questa è la categoria junior, vi faccio i complimenti per l'ottima riuscita delle manifestazioni. Ma nero, certo, perché voi siete un gruppo di ragazzi giovani, che avete un po' tutti anche l'esperienza di aver corso in bicicletta un po' tutti. E soprattutto vi faccio i complimenti perché, nero, anche certo, a livello organizzativo siete stati perfetti. L'avete fatto in una categoria dove effettivamente c'è anche un grande interesse in questo momento. E io mi auguro che la figura di Carlo non venga mai dimenticata perché a Cepagatti è nel mondo sportivo e è riconosciuto tutto quello che ha fatto questo grande personaggio. Io non mi dimenticherò mai le parole del sindaco al momento del funerale di Carlo Santuccione, questo grande medico sportivo, disse purtroppo in questo momento viene a mancare una delle figure più belle del nostro territorio perché anche la politica in quell'occasione si tolse il cappello per quello che aveva fatto questo grande personaggio sportivo, della politica, ma soprattutto umano perché poi gli si riconosce soprattutto quelle grandi qualità umane che Carlo Santuccione aveva. Sì, è vero, a Cepagatti si sente tantissimo la mancanza. Guarda, io si nomina spesso in paese, nelle famiglie, noi siamo cresciuti con Carlo, manca a tutti. È una figura che a Cepagatti difficilmente verrà dimenticata. Noi ogni anno, anche il prossimo anno, siamo pronti, tutto lo staff che voglio ringraziare perché siamo un gruppo fantastico. Siamo 20-25 persone, ma un gruppo bellissimo. Sabato mattina alle 7, già eravamo tutti operativi, per non dire il giorno prima. Nessuno si è tirato indietro, sotto la pioggia abbiamo andato a montare il palco, le transenne. Abbiamo fatto una mega cena dopo la manifestazione, tutti perché si sentono di dare qualcosina a questa manifestazione che ricorda il dottore. Perché tutti ci sentiamo un po' in, come dire... Sì, diciamo, in debito. In debito col dottore. Esatto. Poi voi, Fabio, avete anche a Cepagatti il DNA del ciclismo. Sì, questo è vero. Nelle famiglie si parla di ciclismo, in ogni famiglia probabilmente c'è chi pratica oggi ciclismo, chi l'ha praticato nel passato. C'è una grande storia, avete avuto una grande società ciclistica che nel passato veramente è stato uno dei team più importanti nazionali, con degli atleti anche di grande spessore. Quindi voi... C'è Bacatti, c'è la storia del ciclismo abruzzese. C'è la storia del ciclismo abruzzese. Ma guarda, sì, questo è vero. Io anche oggi, passando al bar azzurro, che è un po' il ritrovo nostro, dei ciclisti, ma anche degli anziani, sentivo i dibattiti sulla corsa di domenica, di sabato, che chi aveva vinto. Cioè, a Cepagatti c'è ancora questa... C'è l'area del ciclismo. C'è l'area del ciclismo. Si respira ciclismo. Sì, esatto, esatto. Oh, Fabio, ti chiedo, guardandoti un po' indietro a cinque edizioni fa, sostanzialmente, perché questa oramai è andata in archivio, che cosa... se dovessi fare un bilancio, in che cosa è migliorata, in che cosa siete migliorati nell'organizzazione? Perché poi, insomma, cinque edizioni non sono tantissime, ma non sono neanche così poche. No, no, oramai siamo super collaudati, gli errori si fanno sempre, perché anche quest'anno poi a mente fredda, quando si ragiona, si ripercorre la giornata, gli errori ci stanno, però noi facciamo sempre del nostro meglio, per esempio quest'anno ho visto che dobbiamo migliorare la pagina Facebook, la diretta Facebook. Con la diretta Facebook si può fare tanto, agli sponsor è piaciuto tantissimo, abbiamo avuto una marea di visualizzazioni, di contatti, quando abbiamo fatto quei dieci minuti al cimitero. Questo fa capire che cosa è questa manifestazione a Cipagatti. Noi contiamo ogni anno di migliorarci, ma soprattutto di confermarci, perché l'obiettivo è sempre quello. Poi abbiamo questo sogno nel cassetto di fare un campione d'italiano Juniors, che prima o poi lo faremo. Però, ripeto, l'obiettivo per l'anno prossimo è confermarsi, perché comunque organizzare non è facile, è difficile. Io non finirò mai di ringraziare i collaboratori, da Pasquale Parmeggiani a Fabrizio Orlando e tutti i ragazzi del gruppo, e gli sponsor. Da noi succede una cosa che non succede a nessuna parte. Ogni anno mi arriva una telefonata di qualcuno, qualche sponsor che è rimasto fuori, mi dice, ma a me perché non mi hai contattato? Poi succede sempre, è incredibile. E anche questo sarà oggetto di discussione. Spero solo una cosa, questo è un appello che voglio fare alla federazione, di aiutarci a migliorare nella burocrazia, perché il problema principale, noi non ci stuferemo mai di organizzare, però io capisco chi veramente si stufa dopo un po', perché noi ogni anno l'autorizzazione della prefettura arriva a mezzogiorno del giorno prima, cioè uno non bosta sulle spine. Eh sì, perché sei sempre... Io un appello che faccio, non so, alla federazione, a qualcuno che... Cioè, dobbiamo avere dei canali dove non si possono perdere giornate dietro a queste cose. Io questo è quello, a noi il problema più grande è quello, guarda, tra sponsor e il resto non ci fa paura niente. Ci faremo promotori da questa sede anche e soprattutto di questo. Ordine d'arrivo, come detto, ha vinto Maxime Varenico, Varenico della CPS Professional Team, secondo Umberto Ceroli della Vini Fantini Sport Tour Free Bike, terzo Riccardo Palumbo, quarto Lorenzo Di Camillo, quinto Ettore Loconsolo, sesto Michele De Palma, settimo Diego Bracalente, ottavo Antonio Dapice, nono Marco Caferri, decimo Marco Fermanelli. Vediamo, visto che siamo in chiusura, mancano 20 secondi, vediamo gli appuntamenti di questo fine settimana. C'è la Gran Sasso Marathon MTB che è stata rinviata di domenica. E allora, sabato 24 luglio, trofeo città di Bellante Memorial Mattia Lo Schiavo, categoria Juniore, se sempre sabato, per il cicloturismo a Fossa Cesi, a Gara Amatoriale Aspertando, Art Bike Run sotto la luna piena. Questi sono gli appuntamenti del fine settimana, grazie a Fabio Cascini, grazie Fabio per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito. Assolutamente doveroso, grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti e buone Olimpiadi a tutti. Assolutamente, buona Olimpiadi a voi, grazie a Karin Finotti in regia, con l'ausilio di Maurizio Daqui che ritroveremo tra tre settimane, gli facciamo un augurio di buone vacanze, grazie a voi che ci avete seguito, noi invece ci vediamo prima, giovedì prossimo, sempre alle 21 su TV6 Canale. 14 del Digitale Terrestre, buone Olimpiadi! 15 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 del Digitale Terrestre, buone Olimpiadi! Grazie a tutti.